Oggi è l'etapa più dura, l'etapa più dura di questa corsa. Vediamo, non ci sono solo io, c'è anche Usarsky che è andato forte ieri. Vediamo strafacendo, per me sarà dura, però non si molla fino alla fine. Molto bene, quest'anno ho fatto una bella preparazione per il Giro Italia e tutti i giorni mi trovo meglio, quello è importante per arrivare al giro giusto con la condizione al 100%, faremo un'altra etapa bella e provariamo al finale. Oggi è l'etapa più dura di questo Giro, c'è una salita vera come hai appena detto e cerchiamo di fare magari selezione, tirare fuori un gruppetto molto ristretto per poi andare all'arrivo. Tra l'altro qui si corre nel ricordo di Meo Venturelli un grandissimo di questo sport. Sì, lui è stato sicuramente importante per questo sport e oggi, come sempre, cerchiamo di onorarli. Quando sei fuori, the pieces of my heart are missing you. Quando sei fuori, the face I came to know isn't missing too. Quando sei fuori, the words I need to hear to always get me through the day. And make it okay, I miss you. I've never felt this way before Everything that I do Reminds me of you And the clothes you left And the clothes you left They lie on the floor And they smell just like you I love the things that you do When you walk away I count the steps that you take Do you see how much I need you right now? When you are gone Pieces of my heart are missing you And when you're gone The face I came to know isn't missing too And when you're gone The words I need to hear to always get me through the day Oggi siamo partiti, tappa molto dura Che dire, le fatiche di ieri si facevano sentire Però la condizione è ottima Addirittura sull'ultima salita Che era veramente impegnativa Pendenze veramente impegnative Ho anche attaccato Ho portato via un gruppetto In volata Diciamo un bello spunto vincente E niente, è andata bene Oggi tra l'altro hai vinto nella terra di Meo Venturelli Che è stata la testa matta del nostro ciclismo Tu sei un bravo ragazzo, sei già sposato Ma sicuramente vi accomuna la passione per la bicicletta Sì, sicuramente Diciamo che alla base c'è una grande passione E adesso insomma da quando uno passa professionista diventa un lavoro Però l'amore per questo sport sicuramente è quello che ti fa andare avanti All the words I need to hear Will always get me through the day And make it okay I miss you All the words I need to hear